Bella a tutti ragazzi, bentornati al mio canale, sono Lollo97ization, sono qui oggi con questo nuovo video, siamo su Fio15 Ultimate Team per il terzo episodio di... Diciamo... Vabbè sì, terzo episodio di questa serie, tra virgolette Oggi andremo a vedere libri da BPL, VA con la BPL BBL, VA con la BPL Allora, diciamo che questa squadra è principalmente spagnola Perché metti per fare l'intesa con la spagnola No? Se così, random, ovvio Allora, iniziamo subito con, diciamo La spiegazione di questa squadra Allora, in porta Iker Cadiz Difesa con Alba, Sergio Ramos, Mascherano e Zabaleta Ho messo Zabaleta perché è l'unico giocatore che fa intesa con un giocatore della liga spagnola Poi abbiamo Sergio Busquets Poi Isco Nero, Mata Jesus, Navas e l'attacco più bagato del gioco Cioè Torres, Diego Cosa Andiamo subito a cercare una caccia di partita Ok, l'abbiamo trovato Mmm, come una squadra abbastanza buona Sembra così C'ha 99 di intesa Sempre con la metà del Bayern, come nello scorso episodio E un po' chi è 82 Oh, una squadra normale Una squadra normale Finalmente una squadra normale, normalissima Eccoci qua al Donbass Arena La mia famiglia è un saluto La verità è un saluto Longo barda con carri Fc No, con gira scusate Vediamo Slessio, quindi non Anemigna Ok, mi sono subito Torre, se neppure Busquets e busquets per nass 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 Ma vi è così bissimo Nass Nass Vai Nass 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 Golaso Golaso Dego Costa Dego Costa La devia E la metti nel sacco Subito Dopo 2 minuti e 20 2 di gioco Incredibile Golaso incredibile Golaso spettacolare Golaso de merda Golaso de merda Dego un gol di merda Gozze 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 No Adramo sei bagatissimo Vai portia Vai portia No, 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 no Che culo Via, 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 via E si è sposta Che cazzo ti è sposta Ti ho messo là Rimani là No, si è sposta Mortacci tua No, 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 no Vai così Bravo, cazzo Jesus Jesus Si ferma La rimette in mezzo Così No, non è vero Invece si La rimette in mezzo Vai di testa No Che sta succede Vai Tira No Vai Che cazzo ha fatto Dego Costa Vabbè Cazzo No, 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 no Signore Può fuori gioco di un nome Bravo, cazzo No Non gli puoi dare Non gli puoi dare rigore così però Non gli puoi dare rigore del genere Ma vaffanculo va Ma che cazzo sta a fa' Oh Un contrasto del gioco Una mortacci tua No, hai rigore Ma vaffanculo va Vai Iker Vai Iker Prendila 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 No, c'è entrato Che uno stronzo sei Passi niente C'è entrambi Sei Guerra La trasformazione dagli undici metri Bella decisa Ferma questa conclusione Non ha lasciato scampo al bocchino Siamo due qualità Grazie Vai 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 Torres 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 No, ma è su di Oh, Ricordi che è Quinzione 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 di unico Non ho capito Ah, bello cazzo Mata Allora, lo struzzo che mettava Allora, mi metti giocatore Allora, lo sai che ti faccio Ma direi con il disco Oh, adesso del mare Isco il tiro Mamma mia Andata appunto Però l'attraverso di poco Mamma mia Era proprio Dall'angolino Porca truta Oh, buono buono Dai Comunque Vi consiglio di battere Le punizioni con Mata Anche se Perché è sempre Per chi è abituato A tirare con i giocatori Di destro Si ha Bale Nel caso Di la Formazione spagnola Nel precedente Nel precedente Episodio Nel primo Episodio E' fuori gioco Mi spiace Mi spiace Mi spiace E' fuori gioco E' praticamente Anche con Gareth Bale Che è sinistro Ci vedete anche Segnere benissimo Anche se io sono abituato Con quelli testi Ci segno benissimo Anche con loro Questo è uno schema bellissimo Gol di Mata Mamma mia Di precisione all'angolino Guardate che schema Guardate che schema Cioè Questo Schema for the life Proprio Questo è lo schema Che faceva addirittura Da FIFA Una FIFA Tipo 12 FIFA 11 Schemi del genere Nelle proprie triangolazioni Così random Non è vero Nel random È calcolato Comunque 2 a 1 Partita equilibratissima Abbiamo fatto 5 di rinporta per 1 E 4 Cioè 5 di rinporta per 1 Quindi E' una partita Stupenda Equilibratissima Meravigliosa Emozionante Ecco Questo sta a fare tra David Wissi Che sicuramente sarà blu E De Bruni Che sarà sicuramente Cominciare la seconda azione Ci metto la mano sul fuoco Che anche Royce Ma mamma mia che ti era fatto Corco due Porta Asciduo No Bravo cazzo Bravo cazzo Che è Zabaleta Zabaleta Incredibile In scivolata Riesci A non far A divarito Non importa Bravo cazzo No 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 non ci posso creere Il primo lancio Che fa Così Ma dai Ma che cazzo Che stavo Rompere il culo Questo Mi segna così Il bagato De merda Porca puttana Vai E niente No eh Pezzo di merda Non me lo farà adesso Dai Ottimazione Tu Ma Tornes Diego Costa Che accetta una palla Davvero molto Ma vaffanculo Ma vaffanculo L'altra volta Ma vaffanculo Ma si ho cagato 250 miliardi De go Vai Costa Vai Navas Bravo Navas Bravo Navas Mettiti a mezzo perfetto Per Torres No Torres Di merda Come cazzo hai fatto A cagato in god del genere Dai il corpo di testa è perfetto Fuori di insuffio Porca puttana Oggi proprio Torres Setti Tire ha fatto addirittura Rispetto al gol Sino ha fatto due Aspirano Dai che l'hai visto Dai che l'hai visto Dai che l'hai visto Dai che l'hai visto Torres Torres No Vai De go Vai No Sì No No Non ci posso Che 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 Gioco De merda Gioco De merda E Niente Questo Girate Quagire Dell' Antica Che Cazzo Deve Fa Che Cazzo Non è Possibile Non sto bombardando Innesco a segnali Scripte di merda Devo per forza Vareggiarla Devo per forza Andarei Non è Possibile Non è Possibile Ci Questo ha fatto Un tutti Giro Non ho fatto La bellezza Di tre In più Rispetto A La 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 Va Vini Va Vini 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 C'è un No 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 Non mi spieghi Come cazzo Ha fatto A segnare Così Chi cazzo È Che ha Segnato Così Goz Vabbè Goz è Passico A casa Mia Non lo so Soffica Soffica È così Quindi Vabbè È un gol Fantastico Praticamente Ha tirato Da casa Su A questo Un gol Pazzesco Pio Lui Gli hanno lasciato Troppo Spazio Per tirare E lui Gli ha punito Ha calciato Con forza Ha trovato Preciso Vabbè Ma vuoi andare avanti Come vuoi fare Vedi sempre Il gol Così Non è Non è Non è Non è Non è E niente Eh Un pezzo De merda Ti faccio Quattro Dico Porco Due Tanto Vero La puttana Di De coso Ma che cazzo Ti è passata Guarda che sta Succede In aria Porca Porta Non è 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 Cazzo Vai Vai No Ottima chiusura Di testa La bai da infortunato Non c'è Cazzo Regà Non c'è Staccato Staccato Non c'è Non c'è Non c'è Staccato 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 Intercettano Bene il pallone E provano a ripartire Finita così ragazzi Abbiamo perso 3-2 Ma sticazzo Allora Vi saluto di un cazzo C'è un like Iscrivetevi al canale Lascia un'iscrizione I miei fanpici di facebook E ci vediamo Nel prossimo video Bella raga C'è un'iscrivetevi al canale C'è un'iscrivetevi al canale